benvenuti al mio video di lezioni stoiche pronte a cambiare radicalmente la vostra vita virtù lo stoicismo pone grande enfasi sul coltivare virtù come saggezza coraggio giustizia e autocontrollo gli stoici ritenevano che queste virtù fossero la chiave per condurre una vita significativa e felice accettazione del destino gli stoici credono nell'accettare ciò che non possono cambiare e nell'adattarsi alle circostanze della vita questo principio è espresso nella famosa citazione accetta quello che non puoi cambiare e concentra la tua attenzione su quello che puoi indifferenza alle cose esterne gli stoici insegnano a non agitarsi per le cose materiali o le circostanze esterne credono che la felicità derivi dall'interno e che le cose esterne non dovrebbero influenzare il nostro stato emotivo o la nostra felicità interiore vita in accordo con la natura gli stoici ritengono che l'uomo debba vivere in armonia con la natura seguendo la ragione e l'ordine cosmico ciò implica vivere in modo virtuoso e in accordo con i principi della ragione e della moralità controllo delle emozioni gli stoici credono nel mantenere il controllo delle proprie emozioni e reazioni agli eventi esterni l'obiettivo è sviluppare un atteggiamento di equanimità e calma interiore di fronte alle sfide e alle difficoltà della vita alla prossima guerrieri continuate a essere fieri e pronti a sfidare la vita con determinazione ricordate di iscrivervi al canale lasciare un like e un commento mentre percorriamo insieme il cammino della forza interiore fino alla prossima battaglia